Ferrari è una casa automobilistica italiana fondata da Enzo Ferrari. Produce vetture sportive di lusso e vetture da gara che partecipano alle più importanti competizioni del mondo. Aperta nel 1929 con il nome Scuderia Ferrari, nei primi anni di attività non produce automobili proprie, ma si occupa della messa a punto di quelle dell'Alfa Romeo. La casa costruttrice nasce il 13 settembre 1939 a Modena con la fondazione della Auto Aviocostruzioni quando Enzo Ferrari decide di realizzare una vettura sportiva, una Spyder denominata 815, che partecipa alla Mille Miglia del 1940. L'azienda si trasferisce in provincia di Modena nel 1943 e la prima automobile marchiata Ferrari, la 125S, esce dallo storico portone di Via Abetone Inferiore di Maranello nel 1947. La prima vittoria in una gara sportiva arriva nel Gran Premio di Roma del 25 maggio 1947. Dieci anni dopo, l'Auto Aviocostruzioni cambia nome in Autocostruzioni Ferrari, fino a diventare Ferrari S.P.A. nel 1965. Per far fronte alle crescenti richieste del mercato, nel 1969 Enzo Ferrari vende al gruppo Fiat il 50% delle sue quote azionarie, percentuale che nel 1988 sale al 90%. Enzo Ferrari, da sempre appassionato di corse automobilistiche, è convinto che le competizioni sportive permettano di introdurre importanti innovazioni tecnologiche, utili a migliorare anche le prestazioni delle vetture da strada. Le autovetture Ferrari sono note per lo stile raffinato, opera dei più importanti progettisti e designer. La scuderia Ferrari aderisce al campionato del mondo di Formula 1 nel 1950, anno della prima edizione. Vince l'anno successivo con il pilota José Froilan González. Il primo titolo piloti è del 1952, vinto da Alberto Ascari. Ferrari diventa una delle scuderie più importanti, con decine e decine di campionati conquistati nelle competizioni automobilistiche più prestigiose. Oltre ai successi alla 24 ore di Le Mans e alle vittorie alla 1000 miglia, è tra le più vincenti nella Formula 1, come numero di titoli costruttori e piloti. Tra i più famosi piloti Ferrari ci sono Juan Manuel Fangio, Niki Lauda, Gilles Villeneuve, Michael Schumacher, Fernando Alonso e Sebastian Vettel. Le vetture Ferrari sono presenti in tutto il mondo. Il marchio con il cavallino rampante nero disegnato su uno sfondo giallo diventa leggenda, così come il colore rosso delle carrozzerie. Nel 2005, ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, si inaugura il parco tematico Ferrari World. Nel 2011 è il momento del Museo Ferrari di Maranello, in provincia di Modena, seguito nel 2012 da quello di Shanghai, in Cina. Nel 2013 e nel 2014 Ferrari viene riconosciuto come il marchio più influente al mondo.